Secondo turno di preliminare di Coppa Italia, seconda partita per il Jam Calciotto che dopo essersi qualificato alla prima con il 5-0 al Real Granella trova i qualificati diretti del Roma Calcio a otto, avversari anche in campionato, settimi contro ottavi, questa è la Coppa Italia di Serie A Lega Calcio a otto. Lo stop, la conclusione di Marco Cassetti e qui rischia tantissimo il Roma Calciotto tenendola il pallone, lo fine, il fallo lo ha commesso proprio il numero 4 e allora palla al Roma. Calcio un angolo battuto cortesino dalle parti di Max Tonetto che la insacca con il mancino il primo gol, il gol del vantaggio del Jam Calciotto arriva all'ottavo minuto, il gol del numero 6, Max Tonetto. Tocco di prima molto buono, messo ancora al centro e a porta spalancata non ci arriva il giocatore della Roma Calciotto e questa forse l'azione più importante per la squadra in maglia bianca e arriva al tredicesimo del primo tempo. Siamo subito in avanti per la Roma Calciotto, spalla contro spalla, tiene lì il pallone, il numero 16 riesce a toccare per il compagno, il tiro deviato, poi allontanato fortunosamente dal Jam Calciotto, azione che non finisce con l'arma Calciotto sempre in avanti, ancora al centro, Paroni, il tocco con la mano. Tante minuti in questo momento passa, va avanti ai quarti di finale, il Jam Calciotto la mattina ancora tutta da giocare, Cassetti la conclusione del numero 4 e il gol del 2-0, però lo ha trovato lui, Marco Cassetti, 2-0, Jam Calciotto al diciassettesimo, l'abbiamo chiamato, il raddoppio delle maglie nere. Da solo il capitano in maglia bianca che ci riesce per un paio di giocatori in alterzione e bloccato, vediamo questa volta, ce la fa, ce la fa ancora una volta il numero 16, va anche a concludere questa volta, il gol c'è ed è spettacolare per il numero 16, Seferi il gol del 2-1 del Roma Calciotto che può riepondere tutto a 5 minuti dal termine del primo tempo. Premi tempo, gol e rinvia in fondo, Seferi con la testa sbilanciata, così l'amversario il pallone che rompa, non importa il gol del 2-2 della Roma Calciotto, arriva adesso l'intervento di Seferi poi corretto, in porta dal numero 9 della Roma, si tratta di Luca Liberti, il gol del 2-2 della Roma Calciotto che riapra tutto al decimo minuto del secondo tempo. Cami gioco dall'altra parte, Gemma che si lancia in avanti velocemente, Cassetti Cassetti ancora lì il pallone, Cassetti che legnata questa di Marco Cassetti, il gol del 3-2 del Gem Calciotto, ora che mancano 8 minuti al termine, la risolve ancora lui il numero 4 ex Roma, Marco Cassetti, 3-2 Gemma. Ecco qui il calcio di punizione per Pisapia, pallone che impatta addosso a Moser, siamo sempre in zona attacco, alla fine allontanato. Poggia al centro, qualche filo al tamer allontanare, Pisapia spazio, il mancino, il pallone deviato, sempre in attacco, alla fine era da qui, il gol del 3-3 della Roma Calciotto che riapre per l'ennesima volta la gara, il gol del pareggio, ancora sugli sviluppi di un tiro da fuori. Lo ha trovato il numero... 4-1 3-3 E' stato Kossu a segnare. Seferi, toccato il pallone a Seferi, botta dalla distanza Moser e spinge, siamo sempre in zona d'attacco, pallone che passa un millimetro dall'incrocio dei pali, difeso da Moser, Roma Calciotto, un passo dalla beffa a due minuti dal termine. All'allontanare, c'è ancora Donetto, pallone sempre al centro, Morischi, è stato Kossu a la battuta, si trova tu per tu con il pallone, il doppio intervento di Goletti, ci aveva provato Santo Prete, un metro dalla porta. Botta la distanza, l'intervento di Moser, ancora una volta provvidenziale, più azioni in questi ultimi 10 minuti che nel resto della gara. Corner battuto basso, ha una buona occasione Pisa via che conclude, colpo di tacco che termina tra i piedi di Moser. Andiamo al riposo, qui e presumibilmente saranno calci di rigore tra le due squadre per decidere il vincitore di questo secondo turno preliminare di Coppa Italia. Coppa Italia di Serie A tra Roma Calciotto e Gemma Calciotto, partita finita 3-3 nei tempi regolamentari. Vediamo subito la battuta del numero 10 della Roma, il gol del vantaggio momentaneo per le maglie bianche l'ha segnato Liotti. Max Tonetto per il Gemma, Tonetto sotto la traversa, 4-4. Capitan Seferi per la Roma, secondo rigore per la squadra in maglia bianca, giallo e rossa. Colmancino Seferi spiazza Moser, 5-4. Tocca a Marco Cassetti contro Stefano Goletti. Cassetti aveva intuito Goletti, è comunque 5-5. Pisa Pia, colmancino Pisa Pia, spiazza anche lui Moser. Jugic contro Goletti. Jugic aveva quasi impattato Goletti il pallone, è comunque entrato 6-6, si prosegue. Quarto rigore, Vannozzi. Vannozzi spara in bocca a Moser, potrebbe essere questa la parata decisiva della partita. Giulitti, fondamentale questo rigore del numero 9, tiro centrale, si era tuffato Goletti, vantaggio del Gen. Paoliello, il peso della gara sulle spalle del numero 5. Paoliello, anche lui centrale, anche lui a spiazzare Moser. C'è Capitano Caruso per il calcio di rigore. Valera, qualificazione. Caruso la schianta dentro, il vantaggio per 8-7 del gem calciotto, vantaggio che significa anche la qualificazione ai quarti di finale. Passa il gem dopo i calci di rigore, 8-7. Grazie. 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 Grazie.